Ciao, due settimane dopo il video unbox, ecco la recensione completa per il Samsung Galaxy Tab 2, 7 pollici. È venduto in Italia da maggio con un listino che nel migliore dei casi arriva a 230-240€. Lo schermo è da 7 pollici, la risoluzione di 1024x600 pixel, ha 8GB di spazio interno, doppia fotocamera, una qua sul fronte e una posteriore da 3 megapixel sul retro. A differenza di altri modelli Samsung, qua abbiamo un lettore in microSD per schede fino a 32GB, abbiamo due altoparlanti sul fondo ed un sensore a infrarossi che abbinato all'applicazione Samsung preinstallata permette di controllare apparecchiature della stessa Samsung direttamente dal tablet. Pesa 340 grammi, quindi è estremamente leggero, non è tra i più sottili disponibili sul mercato, ma ha queste linee che smussano qua ai lati ed una particolare finitura opaca che facilita la presa, quindi l'ergonomia secondo me è riuscita. Vista la fascia di prezzo la qualità costruttiva è davvero buona, non c'è la minima flessione, il tablet è solido anche se piegato, anche se fate pressione al centro, alcuni tablet tendono un po' a fare dei rumori, a scricchiolare leggermente, questo invece è molto stabile, molto fermo da questo punto di vista. Anche lo schermo che non è di tipo IPS ha una luminosità che se regolato al massimo è sufficiente in tutti i contesti, ma che potete tranquillamente regolare a metà così da risparmiare un po' di autonomia e affaticare meno la vista. Anche l'impianto audio permette un volume sostenuto. Così come le due fotocamere, soprattutto quella posteriore a 3 megapixel, permettono di scattare foto dalla buona qualità e di registrare filmati fino ai 1280x720 pixel. In realtà la posteriore tende un po' ad avere un effetto bluastro, ma potete poi intervenire sul bilanciamento del bianco ed avere così un'immagine migliore. Dal punto di vista hardware non c'è molto altro da dire se non iniziare a guardare di cosa è capace il processore OMAP dual core a 1 GHz, che stranamente in questo modello è una versione depotenziata rispetto al modello già in commercio. Di fatto Samsung ha preferito depotenziare leggermente il processore, abbassare il prezzo di vendita così da proporre un tablet tra i più economici disponibili in questo momento sul mercato. Pensate che negli Stati Uniti siamo soltanto 50 dollari sopra prodotti come Kindle Fire o il Nuke Tablet, che sono i prodotti più economici con Android disponibili sul mercato americano. Come potete immaginare, viste le premesse hardware, non abbiamo prestazioni da top di gamma Android, ma non abbiamo neanche un ambiente operativo lento e poco reattivo. L'unico problema principale che ho riscontrato in queste settimane di test sono alcuni lag, alcuni ritardi che si hanno nell'interfaccia grafica, soprattutto quando si hanno aperte più applicazioni disponibili e quando si cerca appunto di passare da una all'altra in modo veloce, senza attendere quei millisecondi necessari. Abbiamo un discreto parco software con tutte le personalizzazioni Samsung TouchWiz, quindi quelle che avete sicuramente già visto in altri modelli, anche se qua abbiamo Android 4 ICS, abbiamo un menu di impostazioni completamente rifatto a livello grafico con nuove modalità, con nuove opzioni soprattutto, abbiamo le mini apps qua in basso che possono essere aperte, sono delle applicazioni extra che possono essere aperte in overlay rispetto a Android, lanciate sopra in pratica l'Android che già conosciamo, conosciamo che in questo caso comunque è ICS, adesso ne apro un'altra, eccola qua, possono essere spostate e vanno semplicemente chiuse poi finché non si preme qua la X, altrimenti restano sopra lo schermo. La reattività generale dell'utilizzo così di tutti i giorni con le applicazioni standard è buona, io non ho riscontrato particolari problemi, anche se, ripeto, non abbiamo un ambiente che schizza sempre all'istante, ma neanche che ci costringe a lunghe attese o che diventa frustrante da utilizzare. Anche leggere libri con l'applicazione Google Play preinstallata, nonostante le premesse ovviamente sugli schermi LCD, è veloce, è un'operazione che si riesce a compiere senza problemi, vedete le pagine passano da una parte all'altra senza la minima latenza, in questo caso non abbiamo assolutamente alcun tipo di problema, quindi se dovete fare velocissime letture, non chiaramente ore, perché lo schermo LCD finisce per stancarvi, non avete problemi con questo Galaxy Tab 2, perché lo schermo comunque resta abbastanza profondo, i neri sono abbastanza profondi, vedete, spero di farvi vedere gli angoli di visuale che restano buoni, anche così in angoli un po' estremi. Tra le preinstallate abbiamo anche Polaris Office, che sicuramente conoscerete già, allo stesso modo anche Carina Music Hub per l'acquisto di musica, il lettore video personalizzato, l'S Planner qua che si integra con la mini apps di cui abbiamo visto, eccolo qua, di cui abbiamo visto prima l'anteprima, eccolo ve la riapro, comunque torniamo, passiamo a qualcosa di più impegnativo come la navigazione web, apro il browser stock, io qua sono su netbooknews.it, la navigazione web con il browser stock è una delle cose migliori che si riescono a fare, nonostante il processore poco potente e il fatto che il tablet sia di fatto un modello economico. Entro dentro un articolo, questo è uno dei pochi tablet in cui non ho sentito l'immediato bisogno di installare un browser di terze parti, come Opera, l'ho installato ma soltanto per sfizio, si riescono tranquillamente a visualizzare le pagine ed avere una buona reattività, come vedete, molto meglio di quella che si ha con prodotti più potenti di questo Samsung, penso al tablet Asus TF300, il Transformer Pad 300 che è un browser stock abbastanza lento e ecco questo è proprio l'articolo con il video unbox, intanto apro un'altra scheda, vado ad aprire ipc.it, così facciamo un altro test, qua siamo su ipc.it che è ancora più leggero e quindi ancora più reattivo di netbooknews.it, entriamo dentro un articolo, sta ancora caricando ma insomma dovrebbe essere già disponibile, la riproduzione di YouTube su browser non funziona, nel senso che vedete resta questa schermata grigia però vi basta comunque poi fare un doppio clic, usare l'app installata, non so se magari è una patch, verrà rilasciata poi una patch per correggere questo problema, non ho neanche approfondito più di tanto perché in fin dei conti basta aprire l'app, per vederla anche in HD senza il minimo problema, approfitto per far vedere gli angoli di visuale, beh siamo sotto una finestra, non si vede nulla, quando poi avete qualche problema di rendering come quello che abbiamo appena visto, vi basta effettivamente passare a un altro browser, adesso sto insistendo con quello stock, per farvi vedere che ha prestazioni migliori rispetto a quelle di altri modelli, ben più potenti di questo Galaxy Tab 2,7 pollici. Passiamo ai giochi, i giochi non sono chiaramente il punto forte di questo, intanto qui diamo qualche applicazione che ho sotto, dicevo non abbiamo chiaramente prestazioni multimediali, soprattutto durante giochi molto molto elevate, abbiamo diversi, ho avuto diversi problemi con alcuni giochi, adesso anche con GTA 3, si hanno molti scatti, comunque qua ho Mini Motor Racing, adesso lo apro, ecco lui, questo è già partito, in questo caso, questo genere di giochi, su questo livello, questo dettaglio, si riesce ad utilizzare senza particolari problemi, non fate caso alle mie prestazioni, perché non solo sto scomodissimo, ma... in ogni modo, era soltanto per farvi vedere che si riesce a gestire questo genere di giochi, ecco, facciamo un po' di caos, senza particolari problemi anche su questo, con questo processore così depotenziato, andiamo oltre, questo è Shine Runner, quindi nonostante la CPU a basso, a bassa frequenza, con GPU dedicata, meno potente rispetto alla maggior parte dei tablet di nuova generazione, con Android, riusciamo comunque a poterci divertire in qualche modo, vediamo proprio GTA 3, visto che prima ve ne ho parlato, ok, in questi minuti di test in cui il tablet è girato con processore al massimo, sul retro, sul fondo del tablet, c'è un leggero calore, soprattutto questa parte qua, questa parte a destra della scritta Samsung, in realtà è un calore che si sente anche qua sul vetro, e questo è uno dei difetti del modello, che però potete risolvere semplicemente girando il tablet, e prendendolo per quest'altro verso, il calore, ripeto, è in questa parte qua, allo stesso modo, potete sia avere il tablet, impugnare il tablet in questo modo, e continuare ad utilizzarlo, che girarlo in verticale, in modalità portrait, e così evitare la parte calda, che è questa qua in alto. In ogni modo, durante l'utilizzo tradizionale, quindi durante la visualizzazione di filmati, e navigazioni web, non si raggiungono temperature così fastidiose, come quelle che invece possono, ci possono avere, anzi si hanno, dopo diversi minuti di gioco, con processore al massimo. Bene, prima di chiudere due parole sull'autonomia, io sono riuscito a mantenere questo Galaxy Tab 2, 7 pollici attivo, per 6-7 giorni, utilizzandolo normalmente, con navigazione web, con la riproduzione di filmati, su YouTube, con la lettura di alcuni libri, su Google Books, non utilizzo sempre con wifi, e notifiche attive, perché senza chiaramente si perde, molto facile, il tablet Android, va utilizzato proprio, in questo modo qua. credo che due giorni siano un'autonomia reale, fattibile, per un utilizzo abbastanza intenso del tablet, magari come unico dispositivo, non so, da viaggio per la lettura di mail, per la navigazione web, e la visualizzazione sempre di filmati, anche per qualche leggero gioco, quindi da questo punto di vista, dal punto di vista dell'autonomia, non ho nulla da dire, il tablet si comporta veramente bene, soprattutto il rapporto, ripeto, alla sua fascia di prezzo. Non è però un prodotto completo, manca ad esempio una porta, all'uscita video HDMI, che sarebbe stata comoda, per utilizzarlo anche per, durante la visualizzazione di filmati, su una tv più grande. Non c'è neanche una porta USB, anche se si può comprare l'adattatore, da collegare qua alla porta proprietaria, comunque una spesa extra, ed è un peccato, perché un dispositivo così piccolo e portatile, potrebbe essere stato comodo, da interfacciare con chiavette USB, o dischi esterni, in alcuni contesti. In ogni modo, per sotto i 250 euro, che è il prezzo attuale, di questo Galaxy Tab 2, 7 pollici, non c'è molto altro da chiedere ad un tablet. Non è un tablet che vi permette di stare tranquilli, fino a Natale 2012, perché durante l'estate ci sarà una nuova generazione di tablet così economici, ma per la cifra richiesta attualmente in Italia, è assolutamente un prodotto consigliato, anche in previsione dell'estate, delle vacanze, se vi serve una macchina di appoggio per visualizzare le mail in vacanza, al mare, o comunque quando non avete a disposizione un computer principale, questo modello può essere una valida soluzione. Trovate altri dettagli, approfondimenti e considerazioni sul Samsung Galaxy Tab 2, 7 pollici, nella recensione di cui vedete adesso il link sullo schermo. Vi invito anche a iscrivervi a questo canale YouTube, perché per le prossime settimane sono in programma altre video recensioni su tablet, ebook reader e dispositivi ultraportatili. Grazie a tutti! Grazie a tutti!